Al numero 1, Sharapova, Griffo, Enrico Bellei, senza ferie anteriori, al 2, Sannitz, Francesco Pettinari, al 3, Sollentufriente, Davide Di Stefano, 4, Panther Pride, Gennaro Amitrano, 5, Surprise K, Gaetano Di Nardo, 7, Pietro Il Grande, Warner Martellini, in seconda fila, 8, Simon Foto SM, Roberto Muscolini, 9, Sodio Degli Olivi, Alessandro Olezzo, 10, Romanov B. Giampaolo, Minucci, la macchina che stacca, davanti ci va Sollentufriente, di rincalzo Sharapova, Griffo, all'esterno Pietro Il Grande, con in scia Panther Pride, e così Sollentufriente al comando su Sharapova, Sollentufriente decide di far sfilare Pietro Il Grande, 14 per i primi 200 metri, resta così scoperto all'esterno Panther Pride, che va ad affacciarsi sul leader, seguito da Surprise e K, terza ancora da Sharapova, a centropista, risale Romanov B, 29 per i primi 400 metri, Pietro Il Grande approda al paletto dei primi 600, in 44 spiccioli, insiste in terza ruota Romanov B, che ha girato, prova da girare Panther Pride, ma non ci riesce, finisce con lo sbagliare, e allora davanti sempre Pietro Il Grande, all'argo Panther Pride, in corda Sollentufriente, all'argo Surprise e K, poi ancora Sharapova Griffo, con all'esterno Sannitz, queste le prime tre coppie che si avviano a completare il chilometro iniziale, con Panther Pride che ora attacca Pietro Il Grande, e guadagna qualcosina, 15,7 il primo chilometro, poi Sollentufriente, all'argo Surprise e K, in bocca della curva conclusiva, con Panther Pride che ha quasi completato il sorpasso di Pietro Il Grande, all'esterno Surprise e K, cerca di svincolarsi dalla corda Sollentufriente, con a ridosso Sannitz, quindi Sharapova Griffo, Panther Pride in vantaggio a 200 dal palo, con l'affondo di Surprise e K, poi Sollentufriente che si lancia all'insediamento dei primi due, ancora Sannitz, Sharapova e Simontfoto a centropista, Surprise in vantaggio, Sollentufriente che guadagna il suo interno, Surprise che si difende sul palo, Surprise, Sollentufriente, e poi il gran finale a centropista di Simontfoto SM, la grossa sorpresa della corsa, l'estremo outsider che riesce a conquistare il terzo posto, qui siamo con Panther Pride in vantaggio, l'attacco di Surprise e K, ormai Pietro Il Grande è battuto, mentre cerca Spazio Sollentufriente, si butta di dentro Sharapova Griffo, poi a centropista ci sarà anche il finale di Simontfoto SM, Ultimi metri con Surprise e K che tiene un'incollatura di vantaggio su Sollentufriente, poi Simontfoto SM al terzo, al quarto Sharapova al quinto, Sannitz e poi Panther Pride, due minuti e sette decimi sul mio cronometro.